In questa edizione che è l'undicesima, sono passati gli anni in modo veloce ma anche bellissimo, ci spostiamo dalla sede storica che è stata per noi quella dei musei civici a Pesaro, invece ci spostiamo in un altro bellissimo cortile che è il cortile di Palazzo Antaldi e quindi siamo molto contenti, il cortile è molto più ampio, il pubblico in questi dieci anni è stato molto numeroso, ci auspichiamo che lo sarà anche in quest'undicesima edizione. Poi tornano le voci straniere, quindi il secondo appuntamento vedrà la voce francese di una poetessa che si chiama Lorgotier e il terzo vedrà l'appuntamento con una poetessa portoghese che si chiama Sofia Carvaio. Le date sono importanti, partiamo mercoledì 3 luglio alle ore 21 al cortile di Palazzo Antaldi, proseguiamo come tradizione della rassegna per i due mercoledì successivi, ovvero il 10 e il 17 luglio. Rassegna poetica ma rassegna anche musicale, Rossini, Città della Musica, quest'anno speciale di Pesaro, capitale italiana della cultura, quindi ogni sera ci sarà un duo ad accompagnare un terzetto, che è il terzetto dei poeti, la prima sera avremo il violino di Cecilia Cartocetti e il flauto di Cristina Flenge, e poi proseguiremo la seconda con la chitarra e la voce di Lucia Lazzari e la fisarmonica di Raffaele Conti e poi l'ultima sera con la voce di Frida Neri e Fabio Mina. E poi i poeti, che sono la grande voce della rassegna, la prima sera avremo Luca Pizzolitto, poeta torinese, Laura Pugno, prima volta Vaghe Stelle dell'Orsa, e poi l'omaggio, sai che da un po' di anni la rassegna ha anche questo taglio di omaggiare le voci poetiche che hanno segnato la storia della poesia, della letteratura del mondo. La prima sera Massimiliano Bardotti omaggerà Walt Whitman. La seconda sera vedremo Anna Toscano, poeta veneziana, che ci parlerà di Lisetta Carmi, Gianni Montieri e, come anticipato, Laura Gautier. L'ultima, una serata tutta al femminile, vorrei chiudere l'undicismo edizione con solo voci femminili, ci sarà la poetessa portoghese Sofia Carvaio, una voce nuova, molto giovane, molto fresca, di Eleonora Nitti Capone e poi la nostra poetessa molto brava, pesarese Lella De Marchio, omaggerà una grande voce della poesia, che è Patrizia Cavalli. Quindi una rassegna molto piena di versi, di voci, di musica e aspettiamo insieme al GAD un pubblico, speriamo, numeroso. E ovviamente le serate saranno in diretta con voi, con Rossini TV, che ringrazio perché è il secondo anno che faremo questa cosa insieme, l'anno scorso è andato molto bene, e poi sulla pagina Facebook del GAD.